eccole stanno venendo da te matteo tutte tutte quante guarda che ci abbiamo qua wow quanto sono belle ci sono tutte sì ma anche le paperelle sono venute vai matteo penso che vogliono che gli dai da mangiare hai portato da mangiare per loro no dopo andiamo a prenderlo vediamole bene guarda che belle ora che collo verde faccio le foto vedi quella che cammina piano eh sì guarda tutte vengono da te ciao ciao matteo salutele pure te come come le saluti fa vedere una resta ferma una resta ferma non so chi sono dillelo chi sei? Matteo sono Matteo